Ciao a tutti ragazzi, ciao ragazze! Allora, faccio un brevissimo video solamente per dirvi che avrei dovuto fare un live non lo so chi è che ne è al corrente, chi mi segue su Instagram, chi mi segue su Facebook avrei dovuto fare questo live domani mattina alle 5 durante la diretta dei Grammy Awards 2017 mi sarebbe piaciuto molto perché era un live molto tranquillo, molto chiacchiericcio con qualcosa da spizzicare o queste cose qua, almeno io spizzicavo, non lo so voi che cosa volevate fare chi dorme, ovvio, qualcuno dorme, qualcuno non lo so, comunque sarebbe stata una cosa molto carina avremmo potuto comunque commentare tipo anche il red carpet e tutte queste cose qua anche i vincitori e le esibizioni, queste cose qua niente, è saltato, problemi tecnici e rimandiamo alla prossima raga che cosa devo dire, rimandiamo alla prossima e ci vediamo comunque ok, un mega bacione, mi raccomando se non siete ancora iscritti iscrivetevi e turn on the notification ciao